Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi su Pinole di Luzio. Oggi siamo al primo di dicembre, ore 10 e tre quarti. La località ve la darò al fine. Quello che vi voglio portare in risalto oggi è un modo per rimorchiare una ragazza. È una strategia vincente, ragazzi, ve lo assicuro. E ce l'ho ben stretta qui fra le mie mani, no? Non fra le mie labbra, qui fra le mie mani, che poi ve la verbalizzerò, quello non c'è ombra di dubbio, ma la vedrete con i vostri occhi. È una cosa veramente allucinante. È un ritrovato di ultima generazione, brevettato da luzioschannel.com e logicamente sono ben lungimirante a volerlo comunicare anche a voi questa strategia. E che qual è, insomma, questa strategia? E ve la dico subito, ok? Non si trovate niente di eccezionale. Sai, sono un tabagista. Ecco qua. Bella, eh? Voi direte, ma questo è stupido, sei rincoglionito. No, questa è una pallina, che è il vostro modo per rimorchiare una ragazza. La leva che dovete fare sulla persona, per far sì, che pone lo sguardo verso di voi e vi comunica un qualcosa. Tieni la pallina, grazie, quant'altro. Voi lo potete fare in qualsiasi locale. Si preferisce un ambiente esterno. Logicamente un ambiente, quindi fuori da un locale, non in giardino o nei tavolini che stanno riposti all'esterno delle mura, del locale. Ma si può fare anche all'interno del locale. Voi state lì per qualche minuto a maneggiare in questa maniera la pallina. Ci giocate, la fate rimbalzare, ok? La fate rimbalzare. Dopodiché, cosa fate? Quando vedete la vostra preda, tra virgolette, lanciate questa palla verso di lei e avrete due risposte. Una che lei farà finta che non è accaduto niente e quella purtroppo dovete lasciarla, abbandonarla. Ma vi aspettate la seconda. La seconda magari cosa vi fa? Perché la statistica dà che sul 30-40% vi risponderanno in maniera accogliente. Ma io penso che in un locale notturno si alzano molto di più le probabilità, ok? Io l'ho fatto nei centri commerciali per rimorchiare. Sono un po' così. E logicamente quello che vi voglio dire è che quando la tirate, logicamente, dopo fate vedere alla persona in maniera senza farvi accorgere che giocate con la pallina, ok? Non che avete messo in atto il gioco quando avete visto lei, ok? Mettete un po' che giocate. Dopo un po', che giocate tipo 5 minuti, 10 minuti, tirate questa pallina in maniera molto occasionale, cioè non voluta, non forzata, cioè in maniera disinteressata. lanciate questa pallina. Lei vi risponderà, raccogliendo questa pallina, riportandola verso i voi. E in quel momento dice, mamma mia, grazie mille, ma sei veramente di cuore, porca paletta. Sicuramente non sei da queste parti, ma come ti chiami? Cioè, io sono Paolo e veramente qui mi trovo tra una banda di bifolchi che bevono, che schiamazzano, che urlano, porca paletta. E dice, mi fa strano, mi ha fatto piacere, mi piace anche a te la pallina di giocare, insomma. Anche te, hai trovato una cosa magari carina, insomma. E tutto lì, insomma. E da questo nasce da come stai, dove sei, quando sei da queste parti, cioè ponete delle domande, naturalmente, e da lì nasce magari un filo comunicativo. Magari date le vostre delicitazioni sulla località dove abita lei. Io sono da queste parti, logicamente non vengo spesso qui, la prima volta che ci vengo. E da lì nasce tutto, insomma. Adesso non vi devo spiegare anche la manfrina del diavolo. Penso che sappiate, insomma, comunicare. Quindi non c'è bisogno che magari vi porto tutti i passaggi. Se poi avete bisogno, probabilmente vi aspetto numerosi al prossimo video. E logicamente magari un video di risposta, dei commenti su come vi è andata il sabato sera. Dando che stasera vi aspetto numerosi a comprare prima il pomeriggio la pallina. E poi, avete preso la pallina, cominciate a giocare. Non vi sembrate stupidi con voi stessi, anzi, è una lera emotiva da paura, insomma. È brevettato da me. Poi dopo, nelle curiosità, sono sicuro che domenica o lunedì vi porterete un bel video con la vostra partner al vostro fianco che mi dite, oh, sai che mi si è attirata il mio sguardo grazie a questa pallina? E vi dirò, mitici! Siamo su Montignano, Google Maps, arrivederci!